Organizer verde da campo, interamente in cordura, cordura in nylon. Abbiamo una taschina traforata esterna, chiusa alla cerniera lalco. Questi cordini che vedete sono elasticizzati per fissare materiali. Un portanome a velcro o portagrado. Un portanome a velcro, bordatura esterna in cordura, tutta cucita, su tutto il perimetro dell'Organizer. Apertura a cerniera lampo integrale. Porta documenti interno tipo cartella, in metallo. Sfilabile, materiale plastico semirigido. Portapenne, portanome, portadocumento identificativo, una, due, tre, quattro taschine, una, due, tre taschine, un portabusola o similari. Capiente, impermeabile, attenuta stagna. Ben rifinita, anche sul retro. Costola semirigida. Porta Agende molto solido e robusto. Ben fatto. Utilizzabile in ogni settore. La cerniera lampo chiude perfettamente tutta la parte perimetrale aperta.